Autogrill e stazioni di servizio blindati nella notte tra Roma e Bari, presidiati tutti cavalcavia tra Bari e Lecce. Un servizio straordinario di controllo del territorio per evitare possibili incidenti tra Ultras del Lecce e Ultras del Brindisi. I primi reduci dalla trasferta di Roma e secondi da quella di Giuliano in Campania. L'orario delle due gare, infatti, il Lecce giocava alle 18 e il Brindisi alle 20 e 45, rendeva probabilissimo l'incontro-scontro sulla strada. L'alert nelle centrali delle forze dell'ordine in realtà era scattato già in mattinata quando, attorno alle 10, i supporters leccesi, mentre erano in viaggio verso la capitale, hanno lanciato bombe carta in due distinte stazioni di servizio neppressi del centro abitato di Brindisi. La prima all'altezza del rione Bozzano, la seconda, poco prima dello svincolo per l'aeroporto. In particolare, nella seconda occasione, si sono registrate scene di tensione e panico tra gli automobilisti e i clienti del distributore con attivo bar. La strada statale 16, come dimostrano queste immagini girate da alcuni automobilisti, è rimasta bloccata per diversi minuti e si sono avvertite forti esplosioni. Fondamentale in questo senso l'immediato intervento della polizia che ha scongiurato il peggio ed evitato che potessero giungere sul posto anche i tifosi del Brindisi. Da quel momento è scattato lo stato d'allerta e i supercontrolli della notte.